Nel mezzo di una crisi globale, di una crisi dei valori, di una crisi dei prezzi dell'energia e del cibo utilizzerò questo concetto per descrivere la crisi che è spesso definita come una crisi geopolitica e spiegherò dopo perché. Un anno fa, nel corso dell'estate come adesso, quando si stavano già preparando queste crisi, la Russia stava preparando questa crisi il mondo non capiva, non voleva capire quanto poteva dipendere dal sviluppo della situazione qui nella nostra parte di Europa l'aggressione russa contro l'Ucraina e la guerra della Russia contro tutto il mondo oserei dire ha condotto a delle tremende conseguenze, centinaia di migliaia di persone sono morte case sono state distrutte in Ucraina, 12 milioni di persone sono diventate rifugiati in Europa e questa è la più grande crisi in Europa dopo la seconda guerra mondiale il Mar Nero che è una rotta fondamentale per le esportazioni di cibo è bloccato dalla marina russa centinaia di migliaia di persone in diversi continenti sono sull'orlo di una penuria alimentare almeno che potrebbe sfociare in una carestia per la quale la Russia sarà completamente responsabile l'Europa sta attraversando una situazione molto difficile da un punto di vista dell'energia nella sua storia e non sappiamo quali altre crisi la Russia sta preparando per il mondo libero cosa accadrà se l'esercito russo dovesse usare armi di istruzione di massa cosa accadrebbe se ad esempio la Russia dovesse attaccare le risorse di acqua potabile nella nostra regione ci sarebbero inquinate con dei detriti nucleari e questo avrebbe delle conseguenze per tutta l'area del Mediterraneo quando l'Ucraina parlava della necessità di sanzioni preventive contro la Russia per far sì che Mosca almeno sentisse la pressione quando abbiamo detto che la politica della Russia di conquistare l'energia era mirata a creare problemi non solo in Ucraina ai nostri gasdotti ma a tutti gli europei non è stato completamente accettato da alcuni leader in Europa lo scorso anno e quando poi noi abbiamo detto che le azioni aggressive della Russia che bloccavano i trasporti nel mare di Azov questo avrebbe portato a delle conseguenze ancora più negative molti nel mondo non volevano crederci e hanno detto apertamente che era impossibile che accadesse ma guardate adesso, questo non solo è possibile ma è accaduto ed è accaduto perché non ci siamo mossi in tempo e non abbiamo mostrato in tempo che il mondo può essere duro quando bisogna difendere gli interessi di base, la pace, la sicurezza, il commercio libero